Si è concluso senza reti l'anticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di serie tra Chievo e Milan. Finisce 0-0 in una partita in cui rarissime sono state le emozioni. Per quanto riguarda la vicenda Parma, sabato conferenza stampa del capitano Lucarelli e del tecnico Donadoni. Più avvoltui che sciacalli. Nella giornata numero 6 di ritorno per quanto riguarda le partite della domenica, attesa per il Napoli impegnato nella difficile trasferta dell'Olimpico di Torino contro i Granate. Entrambi sono reduci da due risultati importanti in Europa League. Per la lotta salvezza attesa per Cesena Udinese ed Atalanta Sampdoria. Mentre l'Inter è attesa alla difficile prova in interna contro la Fiorentina. La Lazio in trasferta in casa del Sassuolo. Il posticipo di lunedì sera sarà la super sfida tra Roma e Juventus.